buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv auguro a tutti di avere davanti a voi una bella tazza di caffè fumante magari anche una coppia di giornale o se non l'avrete pronti per acquistarla intanto io vi do un sunto delle notizie che sono state pubblicate oggi quindi se c'è qualcuna che vi interessa in modo particolare vi consiglio di andare in edicola oggi è martedì 26 settembre 2023 e si festeggiano due santi ecco qui nella grafica sono i santi Cosma e Damiano e bene i santi Cosma e Damiano erano fratelli gemelli di origine araba cristiani di fede erano molto bravi a curare i malati erano due medici cosa che facciamo dicevano senza chiedere nulla in cambio quindi lo facevano gratuitamente morirono sotto Diocleziano scampati a vari tormenti furono decapitati ovviamente morirono per aver confermato la loro fede cristiana auguroni a Damiano Angelucci frate Capuccino fanese ora a Fossombrone frate Damiano ha operato tantissimo nella chiesa di San Paterniano e ovviamente è molto caro a tutti i fanesi quindi a lui gli auguri come a tutti coloro che si chiamano Damiano ma oggi si festeggia anche Santa Giustina che è la patrona di Mondolfo e di questo voglio due parole da Riccardo Sore il nostro regista che cura tutte le immagini Riccardo cosa sai tu di Santa Giustina? Non molto in realtà Vabbè comunque la patrona di Mondolfo è oggi tutta la tutta la città insomma tutto il paese la venera in modo particolare c'è una chiesa vero Santa Giustina dove perfetto quindi Riccardo ci ha ricordato Santa Giustina ed ho detto questo passiamo alle previsioni del tempo e vediamo subito la grafica sarà una giornata in cui ritorna un po il sereno una giornata in prevalenza soleggiata salvo qualche presenza di nubi sparse al mattino i venti saranno tesi da nord ovest nella prima parte della giornata nel pomeriggio lo stesso da nord ovest quindi non cambiano il mare è mosso le temperature 19-23 gradi come quella di ieri e ci ho detto passiamo al Corriere Adriatico la pagina di apertura su Fano e si parla di cronaca si parla di delinquenza si parla di risse di ubriachezza molesta tutto quanto accaduto in Piazza Ammiani nella giornata di ieri Piazza Ammiani in titola il Corriere è una polveriera due scontri a colpi di bottiglie di solito Piazza Ammiani purtroppo è frequentata da persone equivoche persone o sono senza dimora oppure si dedicano una vita così all'improvviso senza sostentamento assicurato gli episodi ieri pomeriggio a distanza di un'ora e la polizia trova un tunisino con 30 grammi di ascis volano bottiglie in pieno giorno e il livello di sopportazione di tutti coloro insomma che frequentano questo luogo che è centralissimo della città di Fano è giunto al limite due clamorosi episodi il primo si è verificato intorno alle 14 quando un 33enne di origini rumene e sua madre che ha 52 anni si sono accapigliati con una terza persona si era già dileguata quando è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri madre e figlio comunque sono stati identificati dai militi e nei loro confronti è stata elevata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta da 102 euro a testa e sono stati entrambi proposti alla questura per un daspo urbano il secondo episodio è avvenuto poco dopo intorno alle 16 sempre nei giardini di piazza amiani dalla ricostruzione dei carabinieri risulta che un 43enne una 43enne si è stata colpita la testa con una bottigliata dalla sua convivente originaria di cuba che a 37 anni anche lei proposta per un daspo urbano e non sono solo questi gli episodi che accadono generalmente nei giardini di piazza amiani dove nelle panchine passano la notte anche diversi individui e quindi si richiede una maggiore vigilanza una maggiore determinazione affinché questi episodi non si verifichino più e soprattutto si 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 di assistenza a coloro che eventualmente non sanno dove andare un incidente stradale a fondo pagina si è verificato ieri via soncino nel quartiere di santorso mentre una ragazza appena 18enne attraversava la strada sulle strisce pedonali e ancora non si sa se lo faceva in sella la sua bicicletta oppure con la bicicletta condotta a mano fatto sta che è stata investita da un'auto si tratta di un opel condotta da una signora di 65 anni di cartoceto ovviamente la ragazza è caduta sta abbattuto insomma è caduta sull'asfalto è stata soccorsa dalla croce rossa comunque le sue condizioni non sono gravi ed è stata curata dal pronto soccorso dell'ospedale a santa croce in codice verde non è tanto la gravità di quanto accaduto delle conseguenze che sono determinate a causa dell'incidente quando la prudenza che dovrebbe sempre essere la guida di coloro che usano la strada sia coloro che vanno in macchina sia coloro che vanno in bicicletta occorre avere prudenza del resto santorso è uno dei quartieri che sono attenzionati dall'amministrazione comunale che sta predisponendo tutto un progetto a 30 chilometri all'ora quindi un limite di velocità molto molto drastico altre notizie a monte giove trovate fosse evasi c'era già un convento mille anni fa una sorpresa questa nel luogo dove dovrebbe sorgere il convento dei frati trappisti mille anni fa anzi nel 1100 1100 1200 già esisteva un convento se ne sono trovate tracce durante un sopralluogo preventivo della soprintendenza effettuato proprio per realizzare il convento dei nuovi frati trappisti cosa è stato trovato sono state trovate queste fosse nella arenaria della roccia arenaria che servivano a conservare alimenti probabilmente granaglie frutti della terra e sono tantissime che dimostra come questo luogo era frequentato da molte persone e per quanto riguarda la datazione di queste strutture vediamo qui alcuni reperti sono dei vasi vasi di argilla vasi invetriati che risalgono appunto poco dopo l'anno mille quindi in quel luogo c'era già una comunità monastica che aveva viveva del lavoro sulla terra la cura della terra i prodotti dell'agricoltura un luogo che cementa la identificazione di monte giove come luogo della spiritualità dopo che i camaldolesi hanno appunto costruito il coleremo sulla vetta del colle le benedettine si sono insediate poco sotto la struttura poi abbiamo anche il complesso religioso del prelato ed ora vediamo se i frati trappisti riusciranno a insediarsi alle spalle del convento di monte giove intanto ieri sera in consiglio comunale la delibera che dovrebbe che avrebbe dovuto approvare la variante per l'insediamento appunto dei frati è stata rinviata ancora una volta c'è qualche mal di pancia all'interno della maggioranza l'ospedale santa croce deve essere difeso abbiamo una puntualizzazione da parte del candidato sindaco giuseppe de leo che ieri aveva criticato sui giornali anzi l'aveva fatto domenica nella convention che aveva organizzato al masetti aveva criticato insomma l'abolizione di marche nord ora invece aggiusta un po il tiro e dice che l'ospedale santa croce deve essere difeso de leo rettifica l'uscita cosa buona chiuderla ha detto dopo che invece aveva detto l'incontrario e poi abbiamo una presa di posizione di samuele mascarina anche lui candidato sindaco per il centro sinistra con la destra c'è un perenne ritorno al futuro per quanto riguarda mascarin dice che in realtà i candidati sono sempre gli stessi le idee sono sempre le stesse manca un effettivo ricambio generazionale nella politica fanese serve un ricambio generazionale perché con il centro destra c'è un continuo ritorno al futuro e questa appunto l'analisi che fa il candidato della sinistra senza nulla togliere allo spessore politico e amministrativo di giuseppe de leo dice mascarin mi pare che più che una convention quella che si è tenuta al masetti sia stata una serata a marcord che in termini di suggestioni politiche richiama più il congresso di vienna che è una storia nuova insomma si cerca di mettere delle toppe là dove ci sono aperte delle falle ma nulla di nuovo per quanto riguarda il vero sviluppo della città ovviamente la critica è rivolta al centro destra ed ora andiamo a fossombrone dove il l'assessore regionale francesco baldelli ha comunicato l'investimento di 4 milioni a diversi comuni per curare la stabilità delle mura storiche capolavori di pietra sono stati definiti stop al degrado l'assessore a fossombrone illustra il finanziamento a favore di 11 comuni ebbene una cosa importante perché le mura storiche sono veramente un bene un bene culturale e storico di grande di grande importanza e purtroppo sono soggette ai sommovimenti della terra quando piove quando sono intensi temporali e purtroppo alcune mura vedi cartoceto sono crollate studenti maltrattati il docente nega tutto si tratta di enrico cinelli 50 anni fanese docente di discipline scientifiche ebbene è stato posto sotto processo per con l'accusa di aver maltrattato gli studenti sono accadute diverse cose ai tempi in cui cinelli insegnava ora non lo fa più ha detto che non ne vuole più sapere di fare questo lavoro ebbene il caso riguarda nove ragazzini che sarebbero delle presunte vittime del professore professore gli avrebbe apostrofati con termini poco simpatici come per esempio sei un cane sei mancina scrivi come un cane avrebbe detto il professore il quale ovviamente nega di aver pronunciato queste frasi due allunni della sua classe avevano cambiato scuola altri sezione per evitare quel docente il caso è scoppiato qualche anno fa durante il periodo del 2018 2020 oggi il docente sì che si è dimesso dicevo dall'insegnamento ha detto chiaramente nego tutto non ho mai offeso gli allunni non ho mai avuto comportamenti denigranti il fatto è però che il l'alunno il professore è stato oggetto anche di un provvedimento da parte della dirigente della scuola insomma adesso il giudice si trova a dipanare questa intricata matassa a mondolfo a mondolfo è morto uno dei giovani investiti in un incidente stradale causato da una donna che non si è fermata a fare a prestare soccorso è una cubana vittima un bengalese di 23 anni è stato convalidato l'arresto della donna che era al volante che sabato notte poi era scappata la vittima si tratta di mia md junaid 23enne di bangladesh che è stato appunto investito le sue condizioni sono apparse subito subito grave e ieri purtroppo è avvenuto il decesso un pensionato a san lorenzo in campo è accusato di abusi sessuali su una ragazzina minorenne la ragazza si sarebbe decisa a confessare quanto avrebbe subito da questo pensionato e ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari antonella marrone ci sarebbe in ballo una richiesta di misura cautelare da parte della procura di pesaro nell'ambito di una procedura di codice rosso nei confronti appunto del pensionato tutta la vicenda è ancora da chiarire vediamo ora la pagina di senigallia dove si parla di enogastronomia perché senigallia oltre a tutte le sue attrattive per gli eventi le manifestazioni che organizza ha anche quella della qualità dei suoi prodotti sui prodotti un prodotto in modo particolare un gelato che ha suggestionato un chef di grande rinomanza si tratta dello chef pluristellato bruno barbieri il quale ha chiesto un gelato a brunelli crema e fior di latte per il conduttore voleva provare questo gusto che è tanto rinomato se lo prova uno che è di gusto se ne intende insomma vuol dire che quel prodotto è veramente molto molto buono vediamo anche qualche notizia di pesaro dove l'apertura dedicata al capoluogo riguarda l'edilizia riguarda l'edilizia vediamo se riesco ad aprire la pagina eccola qua l'edilizia privata è in letargo solo cantieri per le urgenze avevamo già annunciato nei giorni scorsi questo momento negativo per l'edilizia a causa dei problemi dei provvedimenti governativi per il bonus super bonus ora vediamo che questa crisi si concretizza sempre di più parlano gli amministratori dei condomini amatori partiti solo otto cantieri su 40 progetti di intervento sono cantieri che riguardano condomini di piazza redi di via flaminia di via ponchielli della zona centro e mare i lavori riguardano soprattutto il miglioramento del sistema sismico impianti cappotto termico fotovoltaico però c'è da dire che i costi di questi interventi sono addirittura triplicati e c'è un aumento sia delle fonti energetiche che dei materiali che vengono usati in edilizia ecco perché si pone l'accento su questa situazione che non depone affatto per lo sviluppo della economia pesarese minchillo addio un pezzo di storia addio a un grande pugile a un grande uomo sportivo campione e maestro dell'arte nobile è morto a 68 anni per un aneurisma leggenda della box italiana lascia la moglie e tre figli era stato olimpico a montreal nel 1976 campioni d'italia ed europa dei pesi medi junior ha incontrato tutti i più grandi pugili dell'epoca nella sua categoria come duran ernst leonard hope mccallum passò al professionismo nel 1977 per la scuderia della totip di umberto branchini e una data significativa è stata quella del 24 aprile del 1979 quando proprio a pesaro conquistò il titolo di campioni d'italia dei pesi super welter battendo clemente jessi per ko tecnico alla prima ripresa un grande pugile un grande sportivo dicevo la cui scomparsa ha determinato un grande cordoglio poi dobbiamo segnalare un'altra morte quello di roberto giusti bob il grande buono del basket a canestro dalla febal fino alla serie a il giocatore è stato stroncato da una malattia molto grave ovviamente il dolore di mainieri e bertini domani l'ultimo saluto nella chiesa di cristo re si tratta si era che era chiamato il gigante il gigante buono per antonomasia ma anche il coraggioso e forte roberto giusti morto a 66 anni una faccia da bravo ragazzo ora non ce n'è più non c'è più se n'è andato al termine di una malattia che viene definita bastarda perché non perdona area per il deposito dei fanghi in mare dalla regione fondi per avviare lo studio che fine ha fatto la cassa di colmata questa cassa fantomatica che avrebbe dovuto contenere i fanghi dei porti di pesaro di fano ma che alla fine non è mai venuta alla luce cioè quei fanghi non sono stati mai trasportati a fano ancora esistono nella banchina del porto ancora esistono nell'area di fantasy world a torrette e non sono mai stati trasportati nel porto di ancona ora insiste biancani il consigliere regionale del partito democratico dopo tanti solleciti ancora nulla sulla vasca di colmata e sul dragaggio dragaggio che è molto importante per la sicurezza dei natanti che entrano ed escono dal porto soprattutto anche per la funzionalità del porto stesso detto questo vediamo ora il resto del carlino al resto del carlino vediamo l'apertura dedicata alla variante di Gimarra è suonato il De Profundis lo dice il carlino ieri l'ha detto il Corriere Adriatico alludendo ad una fonte parlamentare ebbene sembra che la situazione si oscuri diventi nebulosa ancora di più per quanto riguarda la concessione di questi 20 milioni che la regione sia dimostrata disposta a cedere al comune di Fano per realizzare interventi sulla viabilità sono scaduti i termini il comune spera pensa ad una proroga dal fonti alte di Roma sembra che questa proroga non venga confermata il comune ci spera ancora però ormai ci sono grossi problemi lo stesso Renato Claudio Minardi segretario del Partito Democratico dice aspetto l'ufficialità da Roma poi parlerò poi parlerò spero che non sia così ma temo che sia vero lo dice anche Minardi ovviamente insiste l'opposizione Giuseppe De Leo che ieri ha presentato la sua candidatura ieri ieri l'altro ha presentato la sua candidatura a sindaco dice che quei 20 milioni vanno ricontrattati perché è una risorsa che non può andare perduta e dovrebbero essere impiegati magari per riformare la viabilità a sud del fiume Metauro dove la statale Adriatica a sud è ancora molto pericolosa nonostante gli autovelox e parliamo anche di termini di Carignano il comitato che insiste quotidianamente perché il privato finalmente faccia qualcosa di concreto per il riavvio di queste terme lì però non si parla c'è un silenzio che perdura ormai da mesi dice ma chi dà fastidio la clinica privata a Carignano sembra che il sorgere di una clinica privata nel contesto delle terme sia la causa dei ritardi perché le terme non partano avere 50 posti letto e fare la sinergia con l'acqua termale sarebbe l'ideale per Beatrice Morbidoni che è la presidente del comitato per le terme di Carignano insomma l'interrogativo è Carignano a chi darebbe fastidio la clinica privata è una domanda interessante perché sembra veramente che non sia tutto addebitabile alle lungaggini burocratiche questo ritardo che presiede all'avvio dei lavori per le terme ci deve essere indietro qualcosa e la Morbidoni scava per cercare di capire la verità altro titolo De Leo sulla cresta di ordine e disciplina il candidato sindaco troppe risse c'è un senso di impunità intollerabile e De Leo oltre che alla sanità oltre che su Gimarra interviene anche sull'ordine pubblico che è un tema molto molto caro alla destra Piazza Miani la violenza in mezzo alla gente doppia lite con bottigliate prima tra ubriachi poi tra due donne sotto gli occhi dei passanti e c'è anche la protesta della Confesercente perché ovviamente ne risente un po' tutto l'assetto commerciale del centro storico ed ora parliamo di una associazione benemerita l'associazione che gestisce la mensa di San Paterniano mensa che compie 25 anni di attività 25 anni nel corso dei quali sono passate tante tante persone bisognose senza un letto persone che non potevano mettere insieme il pasto con la cena il pranzo con la cena e quindi un'associazione veramente benemerita oggi si ricordano questi 25 anni con una messa alle 18.30 nella Basilica di San Paterniano e poi seguirà nel chiostro la presentazione di un volume attraverso il racconto dei protagonisti di questi 25 anni e qui noi concludiamo la nostra Rassegna Stampa vi do appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con il Tg di Fano TV Occhio alla Notizia e ovviamente per le notizie del giorno dopo anzi del giorno prima o del giorno dopo a domani mattina alle ore 7 per la nuova Rassegna Stampa grazie per l'ascolto, a risentirci a domani mattina alle ore 20.30 di questa sera